Nino Di Fonso, sindaco di Torino di Sangro, qui a Lago Dragoni, continua a preoccupare la frana. Qui dovrebbe passare la via verde della costa dei Trabocchi, ma sembra un'impresa in questo momento. Non è un'impresa, ma sono da anni, tre anni e mezzo, che io invoco questo problema con le autorità superiori a me, provincia e regione. Nessuno ha fatto un sopralluogo, solo io personalmente e come vedete le vecchie mura di questo Lago Dragoni, ahimè, stanno andando a mare. Quello che dispiace fortemente è che ho lavorato due anni per risolvere il problema verso il casello, ma oggi ci siamo trovati qui di nuovo fermi. La bellezza di questa via verde che aspetto tutti gli abruzzesi è quello che abbiamo delusi gli abruzzesi e non si fanno queste cose. Io purtroppo con la vecchia provincia, con l'ex presidente Pupillo, tre anni e mezzo non mi ha mai ricevuto queste problematiche e ha lasciato il suo mandato dicendo che mi lascia 600 mila euro per completare il Lago Dragoni, prendere in giro gli abruzzesi. finalmente. Quanti soldi servirebbero? Allora io non sono un tecnico, ma sono un appassionato del mare, conosco l'erosione, so che cos'è il mare e sotto gli occhi tutti per completare quest'opera ci vuole dei 2 milioni e 3 milioni di euro. Dopo tanto tempo siamo stati in provincia con il nuovo presidente, ci siamo seduti veramente per vedere di risolvere questo problema e finalmente c'è un dialogo tra comune, provincia e regione. Dialogo che porterà finalmente a sbloccare questa situazione, a che punto siamo? È venuto a nasconderci, il nuovo presidente sta lavorando insieme alla regione con l'assessore Campitelli e l'assessore Daniele Damario, insieme a me, i termini tecnici, è venuto che ci nascondiamo, ci vogliono. La fortuna che abbiamo in questo momento qua è il PNRR. Speriamo che facciamo in fretta, io sarò a disposizione sia della provincia che della regione affinché questo collegamento della via verde da nord a sud sarà per tutti gli abruzzesi. Un'altra estate senza via verde qui a Torino di Sangro? Io fomentavo da tre anni che anche nel 2022 non ci sarebbe stato il collegamento. Spero che nel mio mandato elettorale da sindaco mi ricordi di collegare questa via verde, ma difficilmente ci sarà.